Musica 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 Nello showroom di Bellusco che rappresenta la serie centrale del gruppo del gruppo e noi siamo nell'ambito del settore idrotermosanitario, siamo ormai da 50 anni presenti sul territorio nasciamo come realtà milanese dopodiché noi come famiglia siamo di Bellusco per cui abbiamo portato la sede centrale appunto in questo paese Musica 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 Ultimamente abbiamo rifatto completamente, abbiamo stravolto un po' quello che era l'impostazione iniziale di questo showroom Musica 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 Il nostro showroom rispecchia un po' l'andamento di oggi del settore dell'arredo bagno quindi si punta di più sul design sulle tecnologie sulla funzionalità dei prodotti anche un po' sul colore perché in base all'andamento annuale cambiano le mode cambiano le mode anche nel settore non solo nel settore della moda vera e propria ma anche qui proprio nel settore dell'arredo bagno cambiano anche le tecnologie dicevo perché si punta sul risparmio idrico si punta sulla funzionalità appunto come dicevo prima perché è importante che sia facile pulire uno dei nostri prodotti quindi cambiano appunto degli aspetti estetici nei prodotti presenti Musica Anche quest'anno il salone del mobile ha puntato molto sul design e tanti nuovi prodotti tutti i nuovi prodotti che sono stati presentati in questo salone del mobile verranno poi esposti all'interno del nostro showroom perché i nostri fornitori appunto partecipano con la loro presenza all'interno dei padiglioni della Fiera di Milano is it any wonder that I feel uptrived is it any wonder I don't know what's right all these days after all our misery made dell'isole osservate boi ma o ov ho